Benvenuta Flaminia! L'ultima diva! Perché l'ultima? Altre dive non ce le sono state? In realtà forse la prima diva sarebbe stato anche più giusto perché il termine è stato coniato per lei è stata la prima diva in assoluto, non c'era questo termine prima di lei però poi ha talmente mangiato la platea mondiale perché arriva addirittura in America anche se non ci arriva in qualche modo ci arriva lo stesso che è diventata l'ultima diva Senti ma ci spieghi questa cosa delle tende perché hai visto che Giampiero Ingrassia il film muto attaccava le tende Perché? Perché questi grandi attori del muto in realtà sono i primi in assoluto non si sapeva cosa fosse il cinema muto fino a quel momento, cosa fosse il cinema C'era il teatro, quindi loro portano la teatralità, cioè il linguaggio teatrale al cinema ecco perché recitano con tutto il corpo, ecco perché quello sguardo preensile quella recitazione completamente esagerata Allora lei studia recitazione da Ugo Falena che è stato un grandissimo attore di cinema un coach diremmo oggi e lui le spiega le tecniche della recitazione cioè cerca il baricentro, muoviti con tutto il corpo, interpreta col tuo corpo allora quando viene chiamata da Ermete e Novelli che sono tutti dei nomi straordinari, stratosferici però li conosci tu perché sei nel mondo del cinema e della televisione ma molte persone l'hanno dimenticata, io ho voluto veramente ridare voce a questi artisti e quindi la chiamano? la chiamano a interpretare questo ruolo nel Relia che in 700 metri di perlicola dovevano inserire tutta questa cinematografia e lei siccome c'era stata una scaramuccia perché prende il posto dell'amante di le solite cose di allora come ora, cerca qualcosa di straordinario, una recitazione unica si guarda intorno, vede le tende, si attacca le tende, ondeggia sulle tende e da là ripete questo, questo diventa un po' un... che bene nella vita è pure utile se devi fare lasciare la madre, attacca le tende, magari funziona pure tu Francesca Bertini l'hai conosciuta? allora io Francesca Bertini... era una zia praticamente non era una zia, la chiamavamo zia checca ma infatti io chiudo con una frase del libro che dico l'amicizia a volte sovverte l'anagrafe, non era una vera zia come se lo fosse stata era così legata alla mia famiglia, io la ricordo sempre a casa mia finché da quando io sono nata a quando lei è morta e lei continuava ad attaccarsi alle tende anche di casa mia cioè lei ha continuato a recitare, lei veniva a casa e è stato fantastico devo dire avere Francesca Bertini a casa tutte le domeniche è stato un regalo che io ho avuto peraltro leggo nel tuo libro che lei faceva finta di abitare al grande pelle ma non era vero? lei ha fatto finta tutta la vita a qualunque cosa e non aveva la biancheria ti faccio vedere il trucco, quando parla del trucco vediamo un po', cento film con la mia faccia io ho fatto cento film con la mia faccia lavata col sapone e basta questo è stento a crederlo? no, stento a crederlo perché le donne si truccavano anche allora no, no, non esisteva noi ci truccavamo con un fiammifero sotto un piattino con un fiammifero con un piattino, veniva un po' di nero con questo nero facevamo così perché ero troppo giovane per fare la donna fatale e lui, lui era grande, lei li ruttazzi no, questa storia del Grand Hotel, cioè lei viveva a casa però diceva che faceva chic e quello è una forma, un vezzo, anche una forma io l'ho scritto perché lo sapevano tutti ormai di dominio pubblico però ho avuto un po' questo dissidio interiore che faccio, lo rivelo oppure no? eh, se rivelarlo o meno però anche tu, pure tu, no? Jessica vivi alle Celsior, no? no, tu, Celsior ma se sanno è una cosa meraviglia poi c'erano questi questi grandi amori, no? leggo appunto che quando passava per via Veneto salutava un barone questo piangeva dalle finestre allora lei, anche questo sarà vero perché lei non è vero che non si truccava ma quindi truccava tantissima era truccatissima ma quindi per essere vive bisogna un po' bleffare su noi stessi totalmente comunque c'era questo barone e lo dice lei, Alberto Blanc che quando vedeva passare perché lui era sposato per cui non avrebbe potuto mai sposarla e quando vedeva passare la macchina si struggeva di desiderio per lei però è sempre lei che lo dice ecco poi vai a vedere disse di no a Guglielmo Marconi esatto anche Guglielmo Marconi è stata una delle sue prede però io quello che avevo notato è che di quello che era rimasto di lei c'è la sua autobiografia ci sono queste interviste poi c'è quella lunghissima intervista che è diventato un libro di Costanzo Costantini negli anni 80 e poi c'è il mio grande archivio erano i miei ricordi naturalmente e non combaciava niente allora dico o ha mentito prima o ha mentito dopo comunque ha mentito comunque ha lavorato alla costruzione di se stessa esatto l'ha fatto in maniera magistrale però è una cosa vera che ha sposato un Cartier allora anche là in realtà come no? sì ha sposato non abbiamo capito niente ma no ha sposato Paul Cartier ma chi era Paul Cartier? io credo che lì lei abbia preso una vera grande cantonata non ci credo non era un Cartier non era un Cartier della famiglia Cartier un brillantino era un brillantino un brillantino ma no non si distrutte tutta la vita alla fine hanno presentato anche lei però va bene però ha vissuto come voleva ha vissuto benissimo è stata l'icona mondiale del cinema e anche una che poteva andare in America non ci è andata perché non andò? esatto ecco perché non andò lei ha sempre detto perché il marito gliel'ha impedito potrebbe anche essere gliel'ha impedito insomma diciamo che lei poi ha scelto un'altra vita io credo che lei invece abbia avuto paura dell'America perché poi lei non sapeva l'inglese comunque aveva un provincialismo diciamo tutto sommato che le ha impedito di fare certi passi peccato chissà che cosa avrebbe fatto lei è arrivata comunque in America perché l'hanno conosciuta dappertutto la vediamo qui intervistata da Enzo Biaggi che cosa le ha dato il cinematografo? molto mi ha dato moltissimo mi ha dato quello che non darà mai più a nessuna donna perché io ero la prima lì ero era l'inizio di una cosa nuova è come se oggi sorgesse non so l'uomo che va nella luna e poi c'è andata anche una donna ecco sarei la prima donna della luna peraltro lei bellissima quindi una donna meravigliosa e quindi bellissima ma l'avete vista insomma le foto di repertorio ci sono era affascinante più che bella comunque ecco vedi ha risposto lei alla tua domanda perché l'ultima perché lei è stata la prima è stata l'ultima sempre nella sua visione un po' autoreferenziale però insomma era una donna felice secondo te che l'hai conosciuta? era una donna felice era una donna allegra ecco era una donna allegra poi quanto tormento in realtà avesse dentro nessuno lo sa nessuno lo sa e penso che ce l'avesse di certo poi si dice che fosse anche molto spericolata esatto lei ha interpretato questi film la mazzone mascherata poi adesso non ricordo la fanciulla di Amalfi dove fa delle cose pazzesche allora nella mazzone mascherata lei deve interpretare il ruolo di una circense e quindi si fa insegnare proprio da atleti di circo a volteggiare sul cavallo e ci riesce e non aveva paura anche di imbruttirsi in video nella fanciulla di Amalfi mi pare adesso vorrei sbagliare il titolo del film comunque insomma si lancia da un precipizio cade su dei materassi ma rischia di storpiarsi per tutta la vita e invece lei lo fa era veramente audace ecco lei era una donna audace in tutti i sensi quindi forse a conclusione di questa nostra chiacchierata l'ultima diva Flaminia Marinaro per essere diva bisogna essere anche un po' audaci audaci e amare se stesse prima di tutto senza essere golisti no però insomma un pochino un pochino di tono vabbè non raccontare troppe bugie però se la New Zealand è il giro per Roma è il cinema musico